Allora, abbiamo detto che dobbiamo tenere i microfoni molto vicini alla bocca perché evidentemente... Per arrivare per i cattivi, 184 invitati. Prego, Don Avvocato. Colgo l'invito, sarò velocissimo. Non sono qui in veste istituzionale ma come socio di una sezione che dà molto all'Ums nazionale. Questo è un appuntamento particolarmente tradizionale che dimostra come la nostra città che viene da un'annata molto difficile può essere normale e ritrovarsi nella normalità dei valori dello sport. Oggi si festeggiano questi valori e tutti insieme in clima d'amicizia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Pino, ci siamo allora. Esatto. Benvenuti a tutti. Per me è un onore essere qui. Innanzitutto per tutto il Consiglio, tutti i rappresentanti, i veterani dello sport che ormai sono dei grandi amici e poi vicino a te Pino. Insomma, l'onore è mio sicuramente perché avvalersi di una così prestigiosa e con una carina davanti brillante perché questo è quello che io penso, ma pensiamo tutti. Dovrebbe essere una bella giornata da avere tutti insieme. Sono tantissimi premi, non ne portiamo tempo assolutamente. Abbiamo inizio all'uomo. Io pensavo di fare una cosa, se tu sei d'accordo. Allora magari stoppiamo, facciamo una piccola pausa con un po' di antipasto, così mettiamo sufficienti qualcosa e dopodiché andremo con una lunga maratona di premiazioni e poi ci risolviamo a termine ovviamente di iniziare il posto. Anche perché poi ci sarà una lotteria, so che Lucia e altri sono impegnati nella vendita tra proprio dei biglietti della lotteria, quindi acquistati e ce li vediamo dopo. Intanto a tutti voi, buon appetito. A più tardi. A più tardi.